attenzione jake paul lancia la sfida agli usos non solo con le sue dichiarazioni lascia intendere che il match è praticamente già previsto e che in futuro lo si farà sicuramente forse ha messo le mani un po troppo avanti forse ha trasformato un desiderio in una certezza però quello che ne esce è ciò che vi ho riferito e ne ha parlato a margine dell'evento mayweather versus deji su internet trovate proprio l'estratto ufficiale ad esempio qui come vedete su twitter lo si può andare a scovare facilmente qua c'è il virgolettato e cosa dice jake paul dice faremo un match a squadre io e mi fratello ci ripresenteremo sottointeso in wwe per sfidare gli usos ve lo prometto perché il perdere contro di loro contro la bloodline contro gli usos nello specifico con i quali jake paul ha interagito a crown jewel il perdere contro di loro mi ha lasciato una sensazione sgradevole quindi voglio tornare in quel ring per vendicare la sconfitta di mio fratello la traduzione esatta è voglio tornare in quel ring per vendicare quella sconfitta per mio fratello ma le due cose sono abbastanza complementari e simili dunque questo scenario che su twitch avevamo ipotizzato già qualche settimana fa potrebbe diventare reale non c'è una sicurezza matematica ma se le parole contano ancora qualcosa è come se giocando a poker jake paul avesse mostrato a tutti la sua mano è davvero così oppure è soltanto marketing e pubblicità a buon prezzo gratis facile fatemelo sapere qui sotto nei commenti non c'è un po' di più Grazie.